Rolexis Molina, l'ultimo colpo del Castenaso Baseball, nonostante il campionato sia già iniziato, arrivi a rafforzare una compagine competitiva, primo allenamento per te, come ti sei trovato con i tuoi nuovi compagni? Mi sono trovato bene, l'allenamento è a posto, mi sento in una forma sportiva abbastanza bene e vengo ad avere una grossa mano alla squadra di Castenaso. Il Castenaso è una squadra che l'anno scorso ho dimostrato di avere una volia pazzesca di vincere il campionato, quindi ho accetto questa squadra. Tu hai delle statistiche impressionanti anche nelle passate stagioni, sei uno dei giocatori più affermati qui in Italia, che descrizione e che valutazione puoi dare a questo girone di Serie A2? Penso che tutte le squadre hanno un grande livello, penso che il baseball si gioca in campo e in campo si dimostra chi è il più bravo, noi cercheremo di metterla tutta. Ti chiedo su uno dei motivi di questa scelta è anche stata la possibilità di lavorare con il manager Marco Nanni. Nanni è un grandissimo allenatore, lo conosco già da un bel po' di anni dell'IBL, quindi è un manager con abbastanza esperienza in questo sport e tutta la mia fiducia in lui. Ti posso chiedere che sei stato decisivo ai fini della buona riuscita della trattativa, c'è stata una persona in particolare con il quale hai parlato? Ho parlato con il presidente, abbiamo parlato, ho detto che io ho praticamente con tutto una voglia pazzesca di aiutare questa squadra, e mi ha dato tutta la sua fiducia.